Pelé anticipa giunta, continua il suo slalom, salta a Ballotta e sigla l'1-0 per il Torino. Proteste dei giocatori bresciani sul secondo gol del Torino al diciottesimo. Pelé serve Rizzitelli ma sul lancio Rizzitelli è forse davanti ai giocatori bresciani. Poi il pallone passa fra le gambe di Ballotta e finisce in reti per il 2-0 Granata. Angolo di Cristallini arriva Silenzi che di testa supera ancora Ballotta, 3-0. Maifredi cerca di cambiare le carte, doppia sostituzione Bonometti per Di Muri, Marangon per Bonetti e al quarantesimo il Brescia accorcia le distanze. Respinta a corta di Torrisi, arriva Neri, sinistro dal limite, rete del 3-1. Emozioni anche nel secondo tempo, già al primo minuto Ballotta, terra Silenzi in aria. Cardona non ha dubbi e decreta il rigore anche se i bresciani protestano. Silenzi realizza ma Cardona fa ripetere. Nessuna esitazione nemmeno sulla seconda esecuzione. Palla in rete 4-1 per il Torino.